Ciao a tutti e bucciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft ita Allora abbiamo completato la casa come vedete c'è il vetro colorato dappertutto quindi siamo al sicuro Ma non per molto perché ho deciso in questo episodio di andare indovinate un po' nel nether esatto nonostante abbiamo iniziato davvero da poco direi che un'esplorazione preliminare del nether è dovuta direi che possiamo lasciare qui Mh solamente il vetro in realtà il resto mi porto via tutto le carote ne lascio un po' perché non vorrei mai rischiare di perdere Tutto quello che ho mi faccio un paio di panini per sicurezza nel caso trovarsi subito non lo so una bellissima e simpaticissima Cosa non lo so fortezza del nether ho miei dubbi a riguardo però prendiamo i nostri dieci pezzi di ossidiana prendiamo un lingotto di ferro e Prendiamo un pezzo di flint mi manca la flint ma sei serio non ho un pezzo di flint non ho neanche un pezzo di gravel Ma è grave la situazione e scusate il gioco di parole non l'ho fatto apposta Ok cioè mi sembra strano che io non abbia neanche un pezzettino voglio dire ma che cacchio un pezzettino un pezzettino Un pezzettino di grave non me la dai allora considerate che per il momento è una posizione Temporanea di questo portale come sapete non mi piace avere i portali brutti diciamo che preferisco avere un portale bello se possibile Quindi piazziamolo ma ho bisogno di un bellissimo e simpaticissimo pezzo Ne grave per poter andare avanti raccogliamo tutte le cose del caso tutte le patate del caso che sono un'ottima fonte di cibo e anzi mentre vado a cercare la mia bellissima Gravel per trovare la flint per fare il flint and steal per accedere ai portali al nether e andare a svolgere Quello che devo fare in questo episodio mettiamo a cuocere le patate che mi fanno molto molto comodo mettiamo anche un po' di coal qua dentro Non mi sembra una pessima idea così non devo riempirlo ogni volta e andiamo a cercare un pezzo di gravel ne avete visti qua vicino Se non sbaglio ce n'erano un paio forse non proprio vicino alla pozza di lava forse qui che c'è una caverna C'era qualche mob qui nel questo episodio vediamo se Delungandomi no purtroppo niente Peccato peccato volevo proprio partire tuffandomi Nel nether e invece devo scendere Nella miniera non ho parole volevo partire carico carico e invece sto partendo non così carico Eccola è come non detto in realtà era proprio qui a portata di mano piuttosto che piazzare Tutti i blocchi all'infinito guardate ho preso un po' di gravel iniziato a scavarla e mi ha dato due pezzi di flint Ottimo facciamo il nostro flint and steel posiamo il semino che non ci serve Andiamo a prendere giusto quelle 4 5 patate che avrà cotto in questi Secondi di tempo che ho dato alla fornace e si qua in realtà c'è ancora crafting table e la cesta ma sono vuote quindi Lasciamo lì per il momento non ci interessano e una considerazione che posso fare è che cacchio sono davvero lente le fornaci in minecraft Per cuocere uno stack di roba ci vogliono circa dieci minuti dieci minuti sono tanti Sono tanti ragazzi ecco mi ha cotto neanche otto patate Cioè la metà di quello che ho messo e va bene perché comunque ci sono diversi metodi per aumentare l'efficienza Nelle fornaci però insomma Sarei più felice con delle fornaci più potenti oppure meglio Con delle fornaci che funzionano a calore quindi più calore hai quindi a seconda della fonte di calore che usi va più veloce Sennò avrebbe senso e potrebbe essere una cosa carina da aggiungere Nella prossima versione di minecraft ma non stiamo qui a parlare di questo stiamo qui a parlare del nether entriamo Generiamo il mondo da quest'altra dimensione la seconda dimensione della quarta stagione di minecraft ita e vediamo che cosa succede speriamo Speriamo di non trovare subito ghast speriamo di trovare subito una bella zona con una fortezza sì son contentissimo son contentissimo perché non speravo di avere così tanta forti che è successo qui sta lagando perché sta lagando il mondo Spacco le cose ma non me le spacco che cosa sta succedendo sta generando ancora tutta la dimensione quindi è un po indeciso sul da farsi non Non so se darmi le cose oppure no va bene ma io in realtà son felice Son felice perché posso prendere il mio quarzo non ne prenderò moltissimo E prenderò giusto qualche pezzettino per averlo e per prendere gli ac mentre le cose del caso Guarda qua a questo è anche un bel bacio cacchio così quasi mi conviene lasciarlo Il quarzo ragazzi non conviene prenderlo mai nella vita finché non avete un piccone con fortuna Senza fortuna il quarzo è inutile perché guardate ho preso un botto di quarzo mi ha dato un pezzo di quarzo per cosa Cioè davvero penso sia la cosa più inutile del mondo nel nether andare a prendere il quarzo senza un piccone con fortuna 3 o fortuna 2 anche fortuna 2 è un'ottima alternativa Prendiamo la strada più lunga Però almeno non devo fare costruzioni strane e stiamo attenti stiamo attenti continuiamo un po la zona in realtà vi dirò la verità la mia strategia Non era questa il mio piano non era di andare subito ad esplorare una fortezza del nether era una speranza Un po remota ma non pensavo di arrivarci subito a dire il vero anzi avevo anche un po paura di dover esplorare troppo In giro nel nether e di morire come un cane da solo in mezzo alla lava con le poche cose ecco che ho ottenuto fino Ad ora il problema maggiore sono questi amichetti i nostri amici blaze e se non è una buona armatura e una buona quantità di cibo Diciamo che i blaze sono dei pessimi amici Aia facciamo il culo a questo prima che mi ammazzi Ok vediamo abbiamo tre ceste sbaglio uno due un'altra qui all'angolo Diamante ottimo una bella armatura di ferro un'altra cesta con altri diamanti questo loot Raga non è non è scontato è un loot così buono Difficilmente lo trovi subito infatti questo è il loot classico armature Fu in testi la caso che comunque prendo perché non si sa mai però ho trovato tre diamanti potenzialmente ragazzi vi dirò Craftiamo c'è una spada Che mi frega tanto il legno posso averne quanto ne vogliono appena trono dell'overworld Ma una bella spada di diamante può fare la differenza del nether è un posto pericoloso soprattutto all'inizio del gioco Quindi uno stick due spadine due diamanti altro e abbiamo la nostra spada perfetto Ho spavolato anche un blaze due blaze orca vacca due blaze non è una roba ottima Stiamo calmi stiamo calmi Ok facciamo magari un po di torce così mi levo dall'inventario gli sticketti che forse non sono l'ideale qua finisce la strada Ci stanno sparando io direi andiamo a utilizzare gli angoli per proteggerci Dal danno che fanno questi amichetti e usiamo anche la scala che ho qui da parte Uh muori muori no non mi sparare Ok sto anche mettendo da parte un po di blaze road no in realtà una perché sono sfigatissimo Però meglio di niente ma finisce qua la mia fortezza ma no avevo così tante belle speranze di un'esplorazione della ma Ah infatti continua e continua un bel po perché non solo continua sotto Continua anche dall'altra parte li vedo altre gambe di una fortezza Interessante ragazzi vi dirò lo spawning di questa Fortezza ma nel senso questa generazione del mondo è stata molto molto fortunata poteva andarci molto peggio di così a così sarebbe una bella scala però tutto sommerso dalla lava devo fare un lavoro di Marginazione Della caduta della lava e io direi che possiamo farla così Ottimo stiamo attenti che nel nether la lava lo ricordo a tutti si diffonde molto più velocemente rispetto all'over World quindi è facile prendere danno Vediamo qua in alto se vedo altre cose utili non ho ancora visto nessun gas tra l'altro e all'orizzonte non vedo altre fortezze e quindi Siamo stati davvero molto 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 fortunati ma sono contentissimo vi giuro allora la lava piano piano si sta Ritirando e a noi piace questa cosa così posso scendere di qua guardate la lava era andata in fondissimo e stavo anche prendendo danno a caso Lascia un po di torce così ci ricordiamo da dove siamo venuti Con calma eh cioè con moltissima calma ci sta entro 16 anni Boh è lentissima ci mette mezzo secondo ad andare per chilometri e chilometri ci mette 16 anni a ritirarsi non ho parole dai su 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 dai mi stanno sparando Sbaglio mi stanno sparando Cacchio quale va tutta la netherworld questo sarebbe stato un bel copo a partire subito con la netherworld per le pozioni E le cose mi limito a prendere un po di soul sand che terrò da parte molto volentieri e qua ci sono dei blades perché li sento e stiamo attenti a non farci colpire Boom 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 morto dai però qualche blitz road potresti anche darmela porca vacca Qui stiamo attenti che ci sono i magma blu magma cube magma block e altro looting L'armatura di ferro la lascio prendo molto volentieri invece lingotti Di qua c'è qualcosa non mi sembra Vediamo qua in giro ok qua è dove sono sceso prima Che ho visto il continuo ma penso di poter dire con abbastanza certezza Che questa fortezza è terminata c'è un altro collegamento di qua sicuramente quindi se scendo forse riesco a trovare altre zone però Per il momento ti direi che ah no di qua di qua scherzavo c'è un'altra cesta c'è un pigman Notare che uu ossidiana in tutto questo non ho ancora visto un wither skeleton perché sarebbe davvero il colmo se con la prima esplorazione del nether Ottenessi una testa del wither sarebbe davvero il colmo uuuh altri due diamanti Sto volando leggermente ragazzi e devo dire che così tante ceste una fortezza così grande subito non è non è sconta Di lusso Di lussissimo stiamo attenti a non morire sento rumori strani che sinceramente non mi ispirano molto Mangiamo anche un po di carotine alterniamo patate e beta Beta carotene come si chiama sono curioso sono davvero curioso Di trovare un wither skeleton sarei contentissimo di trovare subito una testa di wither a caso Qua c'è della nether wart ottimo vedo anche un super salmone e anche un blades Il blazer non ottimo facciamolo scaricare fai sparare Caricati bravo bravo spara attraverso il mio michetto Ottimo Ehm bisogna stare attenti a sti cosi che fanno un male cane sono molto pericolosi soprattutto all'inizio quando non è un'armatura incantata Tanti magma cream quelli mi piacciono Ok ora non dovrebbero riuscire a farmi danno miriamo a lui morto ottimo Uccidiamo tutti stiamo attenti a non morire e orca vacca guarda quanto danno che fanno sti piccoli mostriciattoli muori morite Piccoli bufetti mangia una patata recupera la vita Ok Bene posso prendere anche tutto nether wart se non avessi l'inventario pieno cosa posso lasciare qui che non mi interessa Ti darò la flint non mi interessa prendiamo tutta la nether wart ma anche la magma cream mi piacerebbe portare a casa Forse lascio la netherrack se lasciamo la netherrack non mi serve prendiamo piuttosto tutto questo bellissimo Ortaggio rosso Prendi porta a casa che son comode ste cose Troppo finisce tutto vediamo magari salendo trovo qualcos'altro Oppure non troverò niente ma invece continua attenzione colpo di cena Sono un po' sconfortato ragazzi davvero dal fatto di non aver visto neanche un ripeto un wither skeleton Però una cosa positiva è che là in fondo vedo lo spazio di uno spawner di blaze che potrebbe essere davvero interessante sento anche i rumori di un Ghast il primo che sento in questa serie Non so se non vengono andare di là ci sono tanti blaze e come vi ho già spiegato Blaze e prima esplorazione del nether non sono due cose che vanno bene la stessa frase non davvero Potrei fare ora è cercare di capire qual'è il mood di questa fortezza che bene se ho esplorato tutto E vedere se c'è qualche altra cesta che posso portarmi a casa altrimenti non dico di Finire qui l'esplorazione ma Direi calmiamoci un attimo che stiamo facendo davvero tanto Ottimo guarda che bella sta zona La cosa interessante questa sapete perché perché potenzialmente potrei fare la mia base del nether all'interno della fortezza E tu nel già ci sono le stanze più o meno ci sono Potrebbe essere una bella alternativa è così vicina al portale Che potrei farlo tranquillamente inoltre il portale ho detto è temporaneo non lo lascerò lì e il fatto di aver trovato questa fortezza mi potrebbe Permettere in futuro di spostare il mio portale in modo che sponi direttamente dentro la fortezza Non sarebbe una brutta cosa ragazzi Lasciatevi qua sotto nei commenti se avete dei suggerimenti o cose del genere qua è tutto bloccato direi che possiamo risalire Abbiamo preso un po di quarzo abbiamo preso un magma cream una blaze rod no due due dai meglio di niente Cos'altro souls netherworld è un bel bottino soprattutto considerando che ho preso otto diamanti in totale C'è ho fatto di più in questa sessione di esplorazione del nether per quanto riguarda diamanti che non il mining che ho fatto nel secondo episodio Io non ho parole cioè ne ho il fatto è che il nether se hai culo diventa un posto davvero fantastico Però se sei sfigato non ti direi di starci troppo spesso Sappiamo tutti quando tanti blades wither skeleton ghast ce l'hanno con te non è una bella cosa stare nel nether no davvero no 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 Però abbiamo preso anche tre bellissimi achievement Incredibile ragazzi episodio bestia ogni tanto si bugga l'armatura come al solito questi sei diamanti Anche se sarebbero otto li mettiamo da parte e io direi che possiamo Calcolare tutto il loot che ci siamo portati a casa e direi che non è male mettiamo tutto qua dentro giusto per ordinare un po Direi che per concludere questo episodio potremo andare a dar da mangiare ai nostri amichetti visto che è una E' un lavoro che va fatto in più episodi quello di costruire una buona quantità di mob e poi magari trasferire molti di quei mob All'interno di una struttura più adeguata perché un recinto piccolino diciamo che non è il massimo Soprattutto per le mucche potenzialmente la mucca è il mob Perfetto per ottenere cibo perché quando vai a uccidere una mucca non solo ottieni la carne da mangiare che puoi cuocere ed è forse uno dei cibi migliori che c'è in minecraft Facilmente ottenibile non solo bensì ottieni anche la pelle e la pelle essenziale quando inizierò a fare Enchantment e cose del Tipo ok dovete aver dato da mangiare a tutti però già che mi avanza grano andiamo da mangiare anche le pecore che vanno benissimo anche loro e danno cibo e lana Usiamo i semini invece per le nostre amiche galline anche se non servirebbe perché ci hanno le uova e Comunque le uova funzionano egregiamente facciamo un giro qua attorno vediamo quanti riesco a prenderne senza entrare all'interno ok Ma posso fare così faccio un mega salto boom faccio così Sparo tutto Manco una una Niente un polletto Però non è che quando apro un paio di polletti escono sempre ma mi va bene mi va bene così almeno popoliamo un po' sta zona Per questo video ragazzi è tutto mi piace tantissimo per la visione ci vediamo nel prossimo episodio di minecraft ita ciao turuturututti Ciao